Gentili telespettatori, buona giornata. Siamo nella trasmissione Carta Bianca e vediamo che cosa ha raccontato Lucia Azzolina, ve la ricordate, quella dei famosi banchi a rotelle, 500 milioni di euro buttati nel cestino della spazzatura, 500 milioni di tasse nostre buttati via con banchi a rotelle, inutili e inutilizzati. Ecco lì c'è Bianca Berlinguer e Paolo Mieli, l'ex direttore del Corriere della Sera, l'ex ministro dell'istruzione, dell'istruzione, 5 stelle, ospite in studio di Bianca Berlinguer, programma di approfondimento politico in onda il martedì sera su Rai 3. Occasione in cui ha ribadito la bontà, ovviamente a suo giudizio, della terrificante frase sul vitalizio di Roberto Formigoni. Parole che poi lei ha giustificato, esaltato. Dice la decisione sul vitalizio di Formigoni mi ha provocato un senso di disgusto, spiega la grillina. Sul vitalizio a Formigoni, che il vitalizio è una pensione, se una persona ha diritto alla pensione, indipendentemente se ha fatto qualcosa o no eccetera eccetera, se una persona ha diritto alla pensione, la pensione non può essere cancellata in nome di chissà che cosa. La pensione, il diritto alla pensione, l'assegno mensile, è un diritto acquisito che non si può togliere perché Formigoni avrebbe fatto qualcos'altro. Sono due cose separate, no? Togliere la pensione non ha nessun senso. Questa però è la mia idea. Ma la figuraccia che ha fatto Lazzolina è un'altra, anche se il tema è sempre lo stesso. Sulla vicenda infatti interviene Paolo Mieli, altrettanto presente in studio, che ha rimarcato come il vitalizio sia la forma di pensione che spetta ai parlamentari e non si tratta di un premio finale da stabilire in base ai meriti, così come sembra intendere Lazzolina. Ecco, in effetti è quello che vi dicevo prima, è una pensione, non è un premio. Se Formigoni ha diritto alla pensione bisogna dargliela, indipendentemente da qualunque cosa lui abbia fatto alla sua pensione. Non è un premio perché ti sei comportato bene. A quel punto Lazzolina dice lo so che era un verbo edulcorato. Un verbo edulcorato? Prego, Mieli e Berlinguer all'unisono la correggono ricordandole che edulcorato significa l'esatto opposto di quel che voleva intendere, ossia attenuato, mitigato. In realtà, edulcorato cosa vuol dire? Dolcificato, presentato in maniera meno grave di quanto non sia, mitigato, attenuato, interpretato in chiave ottimista o ottimistica. Pertanto che cosa vuol dire? Lo so che era un verbo edulcorato. Un verbo edulcorato. Che figuraccia comunque. Lazzolina, come al solito, conferma quello che uno pensa sui Cinque Stelle. Soprattutto parole che arrivano da un ministro dell'istruzione. edulcorato non vuol dire... Non vuol dire... Ci sono altre parole che indicano, ad esempio, l'alterazione dei vini, no? Lei chissà voleva dire altri termini, gli è venuto fuori edulcorato, no? Dunque, Lazzolina corregge edulcorato in esasperato. Voleva dire verbo esasperato e vince edulcorato, affermando di essersi confusa e puntando il dito contro i fantomatici lapsus freudiani. È stato un lapsus freudiano. Beh, dire edulcorato non mi sembra proprio un lapsus, no? È un po' come dire... Tu stai dicendo che bello questo tavolo, dici che brutto questo tavolo. Ah, è un lapsus freudiano, no. Hai detto un'altra cosa, non è un lapsus. Insomma, il rumore di arrampicata acrobatica sugli specchi si sentiva in tutto lo studio, come in tutte le case di chi era sintonizzato, che hanno sentito questo. In che senso edulcorato? Ma che sta dicendo, no? E un po' ci rimettiamo anche a Santori, che ovviamente non è un 5 stelle, ma potrebbe essere un 5 stelle ad honorem. Ad esempio, Santori, quando non sa che cosa dire, perché lui di argomenti ne sa come i 5 stelle, comincia a dire... Santori l'altro giorno ha detto una frase completamente senza senso e in studio sono tutti rimasti con la testa un po' inclinata così, no? Dire non ho afferreto, non ho afferreto la frase di Santori, no? Santori pensa che dicendo delle frasi senza senso, chi c'è dall'altra parte dica, ah, come parla bene, parla talmente bene, talmente forbito e complicato che non ci arrivo. Infatti Borghi, proprio settimana scorsa, sempre con Santori, dopo che Santori ha detto un'altra cosa senza senso, Borghi dice, mi dispiace ma non riesco a capire cosa dice Santori, sarà io che non ci arrivo, no? Ecco, in questo caso l'azzolina è più o meno allo stesso atteggiamento, però ricordiamoci che l'azzolina non è come Santori, Santori è maestro di frisbin, vi ricordate che avevano fatto il curriculum dicendo Mattia Santori, no? Studi, maestro di frisbin, no? Quello, frisbin, l'azzolina non è maestra di frisbin, ma l'azzolina è una professoressa, è stata ministro dell'istruzione e ha vinto il concorso come dirigente scolastico, cioè la direttrice della scuola diventerà. Diciamo che le GAF, come lei li chiama, i lapsus freudiani, cominciano a essere così tanti che si potrebbe scrivere un bel libro, no? Visto che adesso tutti scrivono dei libri, anche l'azzolina potrebbe scrivere il suo libro. Io sono Lucia, no? Ha scritto anche Toninelli, Toninelli se l'è scritto da solo, attenzione, e se l'è pubblicato da solo su Amazon. Anche lei potrebbe scrivere Io sono Lucia, la ministra, la ex ministra dell'istruzione, la più criticata dagli italiani, no? Vabbè, insomma, facciamoci quattro risate crasse. Vabbè, volevo raccontarvi anche questo. Ci sono alcuni giorni che non ci sono troppe notizie interessanti, allora vi parlo anche di queste scenette che fanno i 5 stelle in televisione. Speriamo di non sentirli più, questi 5 stelle, con il prossimo governo, che siano così ridotti al lumicino da ogni tanto farci qualche risata. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.